Si è aperto presso il Bolo Museale Civico di Cirignola, nel Foggiano, il convegno regionale Puglia-Basilicata dell'Associazione Medici Endocrinologi, evento che è il patrocino del Comune e delle Asle di Puglia e Basilicata. L'introduzione è stata fatta dal referente di Cirignola, il dottor Agostino Specchio, poi i saluti istituzionali del sindaco Franco Mette e dell'assessore alla cultura Giuliana Colucci. I temi di questa prima giornata sono stati gli argomenti relativi alla tiroide e al diabete e soprattutto anche le terapie mediche giuste. La seconda giornata è in programma sabato 3 ottobre.